La Premier League, all matches are tough... ...speak in English... Devo dire altro, sono tutte difficili le partite, tutte difficili, tutte importanti, dico solo per far capire quello che ho detto, che lo Suonzi è andato a vincere a Liverpool, ha vinto con l'Eister, ha vinto partite importanti fuori casa, una non mi ricordo, ha col Crystal Palace, un campo difficile, noi l'affrontiamo sul nostro campo, ma sono stati capaci di vincere con Liverpool e con Crystal Palace, questo dice la difficoltà della partita di domani, ma questo non vuol dire che noi non pensiamo di fare benissimo come abbiamo fatto nelle ultime due partite in casa, proveremo in tutti i modi a fare così. Io non mi considero salvo fino a che la matematica non dirà così, quindi in questo momento assolutamente no, ma anche se spero prima possibile arriviamo alla matematica, dirò ai miei giocatori di affrontare le partite fino all'ultimo nello stesso modo, per arrivare più in alto possibile. Io, chi è stato sempre qui, come tanti giornalisti, il Signore, mi ha sempre sentito dire per coerenza che io cerco di inculcare nella testa dei miei giocatori e da quando sono arrivato, di fare sempre, di cercare in ogni partita di raccogliere il massimo, sia come prestazioni, come punti e questo lo dirò fino all'ultima giornata, non lo so, io cerco sempre il massimo, il massimo possibile. Ciao!